7.423, 7.424, ma quanti... Ciao bambini, ciao bambine! Avete capito? Alessia, mi fermo qui perché vorrei lasciare un po' di suspense. Attenzione, prendete appunti, mi raccomando. Un re ha tre figli, 18 servitori, 15 serve, 2 cani, 8 cavalli e 34 paia di pantaloni. Nina, Nina, ero una vecchina, Nina, Nina cacciava la mosca sul naso del re. Quasi tutte le femmine della scuola mi amano. Che fai tu? Gran e io.